il terzo è un alan 18 scrive un fogliottino qua controllo generale non si accende migliorare fin dove è possibile la modulazione se non si accende ci deve essere qualcosa sull'entrata di alimentazione evidentemente hanno invertito la polarità e quindi è saltato qualcosa lo apro comunque eccolo aperto e come prevedevo le bobine di blocco qui sull'entrata dell'alimentazione sono carbonizzate probabilmente sarà saltato anche il diodo di protezione quindi sperando che il danno nonno è andato oltre provo a cambiarle poi facciamo qualche prova per stabilirlo allora abbiamo sistemato il corto qui come il bobbino ci ho messo l'epocappo 200 filo e 3 america poi dalla parte di sotto c'era una pista che era pure interrotta c'era sostituita con un 39 50 come modulazione un po scarsa però adesso la sosteniamo questa cosa no sarà quattro varie ola trova ola ola vediamo un po se lo possiamo migliorare anche anche l'alana 18 è stato stato sistemato è quindi cambiato pure il condensatore qua sull'uscita del finale di bassa frequenza 2200 micro farade era da mille 16 volt 25 volt aiuta un po la modulazione ecco l'ho migliorato era anche con qualche altro piccolo accorgimento la modulazione l'ho migliorato ho guadagnato qualche watt allargando e stringendo le bobine qua perché non ha bobine variabili oltre a questa qua e quindi qualche fatto l'ho guadagnato la modulazione pure adesso lo chiuso e lo proviamo dai eccoci qua allora rispetto a prima abbiamo questi parametri adesso sono 5 watt e mezzo sei forse ola arriva a 15 16 ola prova prova ola come percentuale stiamo a posto prova 1 2 3 cambio ola 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 prova ola andiamo nel femmine vediamo che succede prova prova ola come deviazione siamo quasi sui 2 kilohertz ola prova la potenza è qua prova prova 1 2 3 cambio ola ola prova e quindi abbiamo concluso anche questo vi ringrazio intanto per aver visto questo video lo metto da parte e quindi passo all'altra per l'ultima grazie ancora e tante belle cose grazie a tutti 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 grazie a tutti